La Regione Campania ha percentuali elevate di disoccupazione giovanile. Per dare risposte concrete, il piano lavoro è una misura che prevede l'assunzione di circa 10.000 giovani nei comuni campani. Ad Albanella è stato presentato uno sportello informativo volontario e gratuito per il concorso, organizzato dalla Segreteria regionale del Partito Socialista Italiano della Campania, con vari professionisti. Un piano lavoro voluto fortemente dall'Aggiunta guidata da Vincenzo De Luca, che la maggioranza sostiene a pieno titolo. Un piano lavoro che è la migliore risposta per i nostri giovani, soprattutto delle aree interne del Cilento e della nostra provincia, ma di tutto il territorio regionale. 10.000 nuove unità che potranno non soltanto da un lato implementare il numero e la risposta di servizi rispetto alla pubblica amministrazione, ma dall'altra anche svecchiarla. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni sono previsti quasi 200.000 quiescenze, quindi 200.000 pensionamenti da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione. Occorre partire per tempo, occorre adeguare e formare i nostri giovani per entrare nella pubblica amministrazione e dare i servizi. Io credo che questa sia davvero una bella risposta che la regione Campania dà e che è un modello che possiamo esportare, dobbiamo esportare in tutte le altre regioni del Sud, che è la migliore risposta a quanto il Governo nazionale fa dal punto di vista dell'assistenzialismo. Noi non siamo per dare assistenzialismo ai nostri giovani, ma siamo per dare delle opportunità di dignità, di lavoro e quindi questi 10.000 posti che mettiamo in qualche modo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a concorso, saranno delle opportunità per i nostri giovani non assistenzialismo. Tante sono le domande che le persone che intendono rispondere a questo bando si fanno. Quali sono i requisiti per accedervi? Per intanto noi abbiamo avuto una richiesta molto forte, quindi dopo una prima adesione da parte di quasi il 50% dei comuni della nostra regione abbiamo riaperto i termini e quindi entro la fine di marzo altri comuni, altri enti territoriali potranno aderire, seppure in ritardo, a questo bando proprio per essere aperti e coinvolgere tutto il tessuto amministrativo della nostra regione. È chiaro che poi i passaggi saranno vari, si dovranno fare con il coinvolgimento di Formez, quindi grandissima trasparenza, con il coinvolgimento del Ministero, del Ripam. Noi faremo delle procedure ovviamente adeguate per premiare il merito e per premiare il coinvolgimento massimo possibile di tutti i giovani della nostra regione. Siamo stasera ad Albanella, ma il Partito Socialista si è fatto carico di tenere tante iniziative su Napoli, su Caserta, su Avellino, Benevento e ora anche a Salerno proprio perché proviamo attraverso le nostre sezioni nei territori a dare tutte le informazioni possibili su quelli che saranno i bandi, le opportunità, i metodi, il timing, quindi i tempi, le procedure e tutto. Da questo punto di vista è chiaro che stiamo svolgendo un ruolo che va in direzione di favorire i giovani la conoscenza e la trasparenza di tutte le nostre azioni amministrative. Attesa il 31 marzo l'ulteriore scadenza per aderire, credo che dopo rapidamente nulla osta più a mettere in campo le procedure e quindi attivare i concorsi e attivare le procedure. Io mi auguro davvero che entro l'estate possiamo muovere i primi passi e registrare i primi interventi e le prime possibilità per i nostri giovani. Grazie